ciao ciao a tutti, ciao amici, siamo qua dal Dinamo di Oleggio, io sono Enzo e sono in compagnia stasera di Daniele, ciao a tutti, ciao Daniele allora perché siamo qua e perché stiamo facendo questo video, perché finalmente è arrivato in un momento di svelarvi quello che è il Dinamo al riservo da altre settimane, ci scrivete in tantissimi su quale potrebbe essere questa serata, qualcuno ha indovinato, qualcuno no se questa serata è stata possibile e finalmente la possiamo operare è merito di Daniele, perché sono settimane, anzi sono mesi e finalmente siamo riusciti ad avere l'esclusiva quindi sì, dopo un mese e dopo un duro lavoro e una dura contrattazione, come ben dice abbiamo avuto l'esclusiva, tutti i martedì che sono qui, sono in questa zona e su un altro locale avremo il cervellone cos'è il cervellone? Qualcuno lo conosce, qualcuno ci ha giocato, qualcuno gira per ragionare, qualcuno no è un gioco fondamentalmente semplice, è un gioco di abilità, di conoscenza, di cultura generale e perché no anche un pizzico di fortuna bene, direi che l'hai presentata la grandissima Carodani e quello che voglio aggiungere è che il cervellone che organizzeremo tutti i martedì con inaugurazione martedì 3 ottobre sarà veramente unica, sarà una serata speciale, soprattutto perché i premi che daremo ogni martedì saranno incredibili noi siamo qua, siamo pronti, vi aspettiamo tutti i martedì a partire dal 3 ottobre con il nostro cervello ciao